Questo è l'ultimo prodotto di Carpuride che ti permetterà di avere Carplay e Android Auto totalmente wireless in qualsiasi auto, camion o camper in soltanto due minuti. Ha un display IPS HD da 10,3 pollici alimentato in USB di tipo C che può trovare sede su tutti i cruscotti e parabrezza grazie ai due bracci di montaggio inclusi. Dottato anche di videocamera posteriore per parcheggio e l'accessorio perfetto per rimodernare la vostra vettura. Ha un sensore di luminosità e un microfono ed è dotato anche di un piccolo speaker posteriore ma volendo si connette all'audio del veicolo tramite cavo jack, via radio e in molte vetture anche via bluetooth. Ti piace? Segui Unbox Italia per scoprire altri fantastici prodotti tech.